C'è un piccolo atelier in Brera, attualmente abbiamo 5 designer, siamo sempre in fermento per la ricerca di qualcosa di nuovo, di ricercato e soprattutto di diverso, perché ogni sposa deve avere una sua caratteristica, una sua identità, una sua realtà, tutto si basa su quello che piace a me e da lì poi nasce ovviamente l'esiderio delle spose, cosa mi chiedono e ogni anno perfezioniamo e cerchiamo di soddisfarle tutte, sempre però molto legato a quello che piace a me. L'atelier è proprio quello che sono io. Una sposa deve essere lei, cioè lei deve essere al centro dell'attenzione, deve essere bella ma non troppo evidente, deve essere sempre una ricerca del fatto che c'è comunque, deve essere un abito puro, pulito in tutti i sensi. Abbiamo diversi tipi di sposa, molto vari, di varie fasce d'età, quindi dai 25 fino ad arrivare ai 45, ai 50 anni. Ogni sposa cerca un piccolo, in ogni stilista la sua caratteristica. Il programma di Scenari Sposa è proprio di spettacolarizzare il matrimonio rendendoli unici. Noi portiamo fortuna perché tutte le spose l'anno dopo sono mamme, quindi è un atelier che porta figli. Diciamo sempre così. Charlie Breer started out as a stylist, so everything that she does is all about being able to adapt your dress, maybe having one look for the day and then changing it in the evening. I'm wholesale manager, so I look after all of the stockists around the world and make sure that they're happy and able to style the dresses and look after each bride in the way that we want them to be looked after. Charlie's slightly obsessed with all things lace, so she does look for a lot of really intricate and beautiful either French or Portuguese or Italian laces. And then she does accent it with some really interesting fabrics like we've got a beautiful crushed faux fur and some beautiful washed leather jackets. So with that whole collection you can do almost 3 million combinations. Not that you're going to, they wouldn't all look good, but you could potentially have a lot of different dresses and that's why most girls go away with something completely different. Each girl gets her own dress.